Come vedere gli abbonamenti attivi a tutte le app sul tuo telefono dal Google Play Store. Apri il Play Store sul tuo telefono. In alto a destra clicca sull'immagine del profilo. Poi vai su Pagamenti e abbonamenti. Ora clicca sulla voce Abbonamenti. Nella schermata successiva vedrai tutti gli abbonamenti attivi. In questo caso io ho attivo solo l'abbonamento a Canva Pro. Cliccandoci sopra posso aggiornare il metodo di pagamento, inserirne uno alternativo, sospendere i pagamenti ed annullare l'abbonamento. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale.